Ma a me mi importa la sega! All'interno del casino dalla quale potete accedervi gratuitamente se non avete comunque anche l'attico così però per poter accedere al filmato che vi permetterà di sbloccare la possibilità di comprare il sottomarino dovete avere per forza un attico del casino perché praticamente dovete accedere all'area VIP dalla quale partirà appunto questo filmato con credo sia il figlio di Madrazo credo credo di sì credo sia suo figlio insomma da qui appunto partirà un filmato e finito questo filmato potrete finalmente comprare il nuovo sottomarino all'interno del sito Warstock Cash & Carry una volta finito il filmato andate nel sito Warstock Cash & Carry e da lì potrete acquistare tranquillamente il nuovo sottomarino consiglio di prenderlo senza niente o perlomeno se possibile almeno con il Siasparrow che sarebbe l'elicottero perché logicamente il sottomarino si troverà in una spesso in una posizione molto scomoda dalla quale uscire ed entrare avere un elicottero vi tornerà veramente molto utile quindi se riuscite a prenderlo e se prendete solo il sottomarino con l'elicottero dovrete pagare solo tra tante virgolette chiaramente 4 milioni e 15 mila dollari altrimenti senza elicottero parliamo di circa 2 milioni e 200 mila dollari all'interno del sottomarino possiamo comprare il nuovo dispositivo Sonar, i missili guidati, l'armeria e appunto la possibilità di comprare sia l'elicottero che un nuovo sottomarino che sarebbe il Kraken Avisa costa un milione e mezzo quindi in totale per avere un sottomarino potenziato al massimo con tutto quanto al suo interno dovrete spendere poco più di 9 milioni di dollari e una volta comprato basterà cercare questa iconetta del sottomarino attorno alla mappa e potrete accedervi con una di queste due entrate e ovviamente la prima volta che accederete al sottomarino dovrete fare il filmato con lo zio Pavel, grandissimo, si chiama come Pavel Nedved e ovviamente una volta finito il filmato potremo esplorare e utilizzare liberamente il nostro nuovo sottomarino qui c'è ovviamente la pianificazione per avviare il colpo, vi ricordo che senza sottomarino non potete eseguire il nuovo colpo del DLC né accedere all'isola quindi dovete avere per forza il sottomarino per diciamo gustarvi questa nuova espansione se volete sapere dopo quanti colpi esplode il sottomarino parliamo di ben 8 razzi di RPG e qui c'è anche una clip di come il sottomarino sia facilmente distruggibile con un P996 laser che cosa possiamo fare all'interno del sottomarino? qui possiamo comandarlo completamente, chiaramente con R2 acceleriamo e sì possiamo guidare liberamente il sottomarino anche se chiaramente sarà di una lentezza assurda tenendo premuto quadrato possiamo risalire in superficie invece al contrario tenendo premuto X potremo scendere sott'acqua non solo potete accelerare con il sottomarino ma potete anche girarvi meglio sempre con il sottomarino tenendo premuto L1 oppure R1 dipende un po' dalla direzione che volete far girare il sottomarino il sottomarino è dotato di siluri e al tempo stesso di un periscopio che logicamente si può usare solo se siamo in superficie e la vera utilità di questo periscopio a parte insomma poter rilevare bersagli guardare cosa c'è attorno eccetera 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 è anche quella di poter agganciare i veicoli dei nemici per poi sparargli addosso un colpo di missile guidato e volendo possiamo far utilizzare il periscopio ad un amico in quanto è presente lo stesso periscopio anche al di fuori dei comandi principali in questo punto del sottomarino e se siamo sott'acqua possiamo attivare il pilota automatico tenendo premuto la crocetta direzionale destra proprio come nell'Avenger per far sì che il sottomarino rimanga immobile tra le nuove funzionalità del sottomarino abbiamo la stazione sonar e i missili guidati riguardo la stazione sonar da quello che ho capito il suo scopo è quello di trovare tesori o comunque nemici o giocatori attorno al radar ah dovete anche sapere una cosa se siete sott'acqua i nemici non riusciranno ad individuare la vostra posizione o comunque anche insomma i giocatori gta online a meno che un altro giocatore non sta utilizzando un sottomarino e al tempo stesso questa nuova funzionalità della stazione sonar e se voi appunto siete sott'acqua però un altro giocatore sta usando la stazione sonar riuscirà ugualmente a vedervi all'interno del suo radar perché proprio questa è la funzionalità della stazione sonar riuscire a rilevare tutto quello che avete attorno insomma scannerizzando l'area premendo il tasto r3 insomma la levetta destra e se premete appunto questa levetta praticamente nel radar ci sarà questa scannerizzazione del sonar per vedere insomma chi c'è attorno se ci sono tesori sul fondo dell'oceano oppure anche come detto prima giocatori di gta online nemici eccetera 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 e grazie a questo sonar non solo potremo utilizzarlo contro nemici giocatori ma anche per trovare tesori sul fondo dell'oceano e questo sarà un argomento di cui parlerò in un altro video mentre i missili guidati non si utilizzano tra i comandi principali ma in questo punto del sottomarino e fate attenzione cercate di non confondere il periscopio con i missili guidati perché sono due funzionalità differenti potremo sparare fino a un missile guidato per minuto all'interno del sottomarino e questa è la prospettiva di quello che succede ai giocatori quando si beccano un colpo di periscopio mentre questa è la prospettiva di quando un giocatore si prende un bellissimo colpo di missile guidato oltre a queste funzionalità insomma poter sparare fare casino eccetera 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 possiamo anche viaggiare velocemente scegliendo 12 punti differenti della mappa su cui sponare sempre andando tra i comandi principali del sottomarino però a posto di premere X basterà premere quadrato per accedere insomma al menu del viaggio veloce ed è molto simile a quello che abbiamo visto nello yacht ci sono questi 12 punti pagati 10.000 dollari e il gioco vi porterà automaticamente nella zona prestabilita nel menu inventario ovviamente abbiamo i servizi che ci permettono di richiedere il cosatca per farlo sponare nella mappa con anche la possibilità di richiedere uno dei due veicoli del sottomarino che abbiamo comprato per poterci arrivare con comodità e nel caso in cui non abbiate nessuno dei due veicoli potrete richiedere semplicemente un dinghi per poter accedere sempre al sottomarino senza troppi sforzi qua ci stanno differenti opzioni di spostamento del sottomarino se vogliamo portarlo nel mare aperto se vogliamo riportarlo nel deposito se vogliamo riportare i veicoli del sottomarino all'interno del sottomarino automaticamente insomma le solite cose qui ci sono le opzioni di accesso per poter impedire o meno l'accesso di alcune zone del sottomarino ai giocatori mentre qui abbiamo le opzioni per poter cacciare o meno i players all'interno del sottomarino infine qua c'è l'estetica del nostro completo da sub passando al resto del sottomarino andando qua abbiamo il tipico alloggio che conosciamo tutti insomma la possibilità di cambiare abbigliamento eccetera 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 qua abbiamo delle telecamere che non servono praticamente a niente l'armeria tipica del DLC del bunker se abbiamo comprato l'armeria qua invece in caffetteria possiamo rifornici di scorte gratuitamente mentre sia vicino a un'uscita del sottomarino che vicino il kraken a visa potremo decidere se vestirci con il completo da sub oppure ritornare al completo che avevamo prima istantaneamente e andando a giro per il sottomarino potremo anche trovare munizioni per armi differenti qua invece abbiamo il posto per il sia sparrow come anche il posto appunto come detto prima del kraken a visa e non solo abbiamo anche un parcheggio per un veicolo qualsiasi in grado di sommergersi non solo questo posto non vale solo per la nuova pegassi toreador ma anche per la vecchia famosa stromberg infatti qui c'è anche un'entrata disponibile se vogliamo ritornare all'interno del sottomarino strano però che quando sono ritornato con la toreador all'interno del sottomarino magicamente il gioco mi ha fatto spawnare dentro il kraken a visa boh vabbè sarà un bug chiaramente questa cosa non vale solo con un qualsiasi veicolo sommergibile se volete appunto potete entrare direttamente nel cosatka da dentro il sia sparrow non so se questa cosa vale con gli altri elicotteri credo di no però sicuramente col sia sparrow potete rientrare all'interno del cosatka il sia sparrow volendolo potete modificare premendo la crocetta direzionale destra e potete applicargli sia delle armi da mettere all'interno del sia sparrow come appunto dei missili guidati che una qualsiasi verniciatura la stessa cosa però non si può fare né con il sottomarino né con il toreador la nuova macchina sommergibile quella dovete andare a modificare da un qualsiasi centro operativo mobile o comunque ad un Los Santos Customs tenendo conto ovviamente che a Los Santos Customs non potete modificare le sue armi e quindi niente ragazzi queste sono tutte le cose che principalmente possiamo fare all'interno del sottomarino fatemi sapere cosa ne pensate di questo sottomarino bomba qui sotto tra i commenti da Zwillix è tutto noi ci sentiamo al prossimo video ciao 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 ciao